Il tema della survivorship, che cos'è, perché è importante? Allora, qui ad IOM Giovani uno dei punti centrali era rappresentato dalla multidisciplinarità, multidisciplinarità sicuramente nell'ambito del trattamento attivo, ma multidisciplinarità che secondo me va declinata anche nella fase dopo il trattamento. Il tema della survivorship è estremamente importante, il nostro obiettivo è quello di curare le pazienti, di aumentare le speranze di vita, ma dopo i nostri trattamenti ci possono essere degli effetti collaterali che possono essere importanti e che possono essere persistenti. La survivorship significa interessarsi a questi effetti collaterali, a come modificano la qualità della vita dei nostri pazienti e alla modalità migliore per prenderli in carico. E nell'ambito di IOM Giovani e della multidisciplinarità credo che sia fondamentale comprendere che molti dei nostri trattamenti che a volte proponiamo anche per periodi di tempo molto lunghi, penso all'ormonoterapia adiuvante per le pazienti con tumore della mammella e particolarmente per le donne giovani in cui a volte proponiamo anche la soppressione ovarica, portino ad una serie di effetti collaterali che possono veramente determinare un abbassamento della qualità della vita. E allora nell'ambito di questo aspetto della multidisciplinarità la collaborazione con i ginecologi ad esempio per il trattamento degli effetti collaterali dell'ormonoterapia è fondamentale per far sì che produciamo da un lato un miglioramento della sopravvivenza per le nostre pazienti ma senza andare a determinare un effetto negativo sulla qualità della vita.